ma bella a tutti ragazzi ben ritrovati in un nuovo video sono david 00mirco oggi vi farò vedere come avete letto dal titolo come scaricare gratis film o serie tv qualsiasi altra roba con questo programma xdccmule lo potete scaricare da internet basta che cerchiate xdccmule download poi lo trovate subito da questa cartella in questa cartella questa come potrei chiamarla una specie di cartella applicazione troviamo questi file ecco non ci serve nessuno tranne mirch infatti come potete vedere mi c'è applicazioni c'è scritto allora istraiamo mirch se no lo possiamo utilizzare da all'interno della cartella e lo stesso e lo strato questo qua il collegamento mirch allora apriamo mirch è un'operazione molto veloce infatti il tutorial sarà molto breve lo lasciamo caricare finché non ci apparano appargono tutti questi file questi server sono e poi per cercare ovvero questi server sono i server connessi al nostro computer andiamo sul primo risultato pen joke che sarebbe il server dei server poi non sto a fare tutta la spiegazione andiamo su global find ricerca globale clicchiamo una volta e qua poi dobbiamo mettere in lista globale qua sul mio computer c'è solo questa però ce ne potrebbero essere anche altre e global net ora in questa dove c'è scritto nome noi dobbiamo scrivere il nome il titolo del film che vogliamo scaricare ad esempio andiamo americano americano sani per ecco e poi facciamo un su cerco e ci vengono circa 88 89 liste dipende e noi ne prendiamo una di queste io vi consiglio ars che il più veloce se c'è questo caso ares ok in questa lista clicchiamo due volte e ci vengono forniti questi file a per prima cosa guardiamo il bot è questo questa scritta iniziale di che colore è questo caso è verde quindi bot è disponibile ecco come potete leggere negli altri casi invece se il bot è grigio vuol dire che vi dovete connettere dura più o meno 10 secondi poi ve lo scarica poi giallo bot non disponibile e non mi trovo in ares vuol dire che non riesco a collegarmi al server ares quando il colore è rosso poi cosa facciamo clicchiamo sul primo e ci dice richiesta effettuata ok questo lato in questo lato a sinistra ci appare una cartella ma possiamo vedere la velocità del possiamo vedere la velocità del download quanto ci impiegherà ancora e quanto dobbiamo ancora scaricare per vedere se italiane tutto dobbiamo guardare dal titolo italian ok poi dvd e alla fine firmato avv1 che vuol dire che ve lo può leggere windows media player ora cancello perché ecco alla fine del download vi appare open folder vuol dire se ve lo aprite vi appare questa cartella dove lo potete spostare sul desktop ok io chiudo tutto e per questo video per questo tutorial è tutto iscrivetevi lasciate un commento ci vediamo alla prossima ciao ciao